Buongiorno telespettatori di Nettuno TV, canale 99, buongiorno a chi ci segue anche in streaming, Nettuno TV.tv, benvenuti questo giovedì 24 maggio del 2018, questo pomeriggio alle 18 in Cappella Farnese la presentazione del libro del fondatore della comunità di Sant'Egidio Riccardi, alla presenza anche dell'Arcivescovo di Bologna, Mons. Matteo Zuppi, la diretta televisiva su Nettuno TV a partire proprio dalle 18.05 dalla Cappella Farnese per consentire a tutte le persone che non potranno raggiungere Palazzo d'Accursio per assistere live in diretta questo evento, avrete la possibilità di seguirlo in televisione, Nettuno TV, ancora una volta in diretta. Saremo quest'oggi anche alla fondazione Fashion Research con il Cavaliere Alberto Masotti, una giornata di presentazione di lavori, di progetti divisi secondo tre gruppi, insomma andremo a filmare tutto quanto con le nostre telecamere e poi vi proporremo un grande speciale, insomma una giornata davvero molto molto attiva, poi ricordiamo anche che saremo con le telecamere di Nettuno TV che stasera alle 19 al nuovo Scrambler Ducati che è nato e viene inaugurato per la stampa questo pomeriggio in Via d'Azzeglio alla presenza dei due campioni di motociclismo di Casa Ducati, Dovizioso e Lorenzo. Questo è il tema di questa giornata per darvi qualche flash per quanto riguarda la giornata di oggi ma andiamo adesso a leggere le prime pagine dei quotidiani di Bologna. Questo è il resto del Carlino, Mambro Shock, l'ex terrorista Deinar, testimonia al processo contro Cavallini, non dovrei essere qui a Bologna, mi sento una deportata. E poi ancora il prefetto firma i daspo urbani per Piazza Verdi, ordinanza anticaos in zona universitaria, allontanamento anche per i venditori abusivi di birra, speriamo davvero che possa essere efficace. Poi invece il nuovo assessore Aitini, nel senso nuovo del Comune di Bologna nominato da poco, parla dell'effetto di scarica in centro storico, quindi anche gli assessori si sono accorti che in centro storico a Bologna nelle giornate della raccolta porta a porta, praticamente dalle 7 di sera, finché non passa il camion del rusco, ci sono sacchi sparsi da tutte le parti e l'effetto è davvero bruttissimo. E allora ha deciso di cambiare, quindi come Bologna prima lo ha proposto, adesso cambia assessore, dice ma non mi piace, voglio cambiarlo, vabbè cambiamolo. Nessun reato, il GIP archivia l'indagine per assenteismo su 27 dipendenti dell'IBC, l'Istituto dei Beni Culturali della Regione Emilia Romagna, insomma di fatto tanto clamore, il servizio esiste alla notizia, le dimissioni di qua, di su, di giù, e poi invece sembra che in realtà fosse tutto assolutamente regolare. E vabbè, ancora una volta il processo mediatico in qualche modo ha vinto sul processo ordinario. Grande guerra, raccolta fondi per la lapide dei bolognesi caduti al fronte, morti in Slovenia, ancora dalla prima pagina del quotidiano Il resto del carico di Bologna. Pronto il Corriere di Bologna, eccolo Piazza Verdi, interviene il prefetto, mini daspo per gli spacciatori, zona universitaria, la svolta, salta intanto l'ordinanza anti-bonghi. E poi strage, Mambro riapre le ferite, processo Cavallini, alcuni tra i familiari delle vittime escono dall'aula piangendo mentre lei parla, e poi l'ex Nara ribadisce la sua innocenza in tribunale, qui mi sento una deportata. Finisce l'era di Donadoni al Bologna, allenatore Cercasi, il favorito sembra essere Pippo Inzaghi, l'allenatore scelto, pensate un po' a linea della sorte, da Tacopina per guidare il suo Venezia. Faccia a faccia dopo 38 anni la rabbia dei parenti, ancora il tema della Mambro in aula, e poi a Sirinido il pasticcio del concorso. I candidati sono troppi, la selezione slitta a settembre, l'ira dei sindacati. Ancora prima pagina, anche per quanto riguarda il Corriere di Bologna. Ecco la Repubblica, la Mambro sul luogo del delitto, qui nulla di cui vergognarmi, processo al 2 agosto, l'ex Nara mi sento una deportata, l'indignazione delle vittime. E poi la stragista e il curriculum dell'orrore, Giovanni Egidio che firma il commento sulle pagine di Repubblica, e poi saputo, ha già deciso, oggi l'addio a Donadoni, sporta il ribaltone. Poi l'autista Tiper lascia guidare le sue poesie, Caterina Giusberti che firma quest'articolo delle brevi di Repubblica, e poi anche Repubblica, la notizia, assenteismo, dipendenti IBC sono stati tutti assolti. Quindi non c'era nessun reato, nessun furbetto, niente di che. Ci sono voluti, diciamo, alcuni mesi e sicuramente una campagna mediatica pesantissima nei confronti dell'allora direttore e nei confronti anche, diciamo così, di diversi dipendenti. Ma voglio restare sul tema del prefetto che appunto ha firmato anche i DASPO urbani per Piazza Verdi, sempre nel tentativo di smuovere un po', diciamo così, la situazione. DASPO anche in Piazza Verdi, prefetto estende i divieti, colpiti i venditori abusivi di alcol, i dati una cinquantina e i recidivi denunciati, Montagnola, Bundi, Controlli, allontanate finora 69 persone. Ma sul tema della Montagnola, sul tema della lotta al degrado, ieri è tornato anche il direttore generale di Confcommercio Ascom Bologna, Giancarlo Tonelli, al microfono della nostra Eleonora Monari. Andiamo a sentire. L'estate sarà piena di eventi, ricca di attenzioni, di iniziative, ma non dimentichiamo anche la lotta al degrado. Ci sono alcune zone della nostra città che meritano di essere riqualificate. Noi ci impegneremo in modo particolare, insieme ad altri soggetti, in iniziative che riguarderanno la Montagnola. È uno dei parchi più belli della nostra città, oggi in alcune occasioni mal frequentate. L'impegno nostro sarà quello di riempirlo di eventi che allontanino spacciatori o altro e che lo riconsegnino finalmente alle persone per bene, alle famiglie. E adesso andiamo anche sulle pagine di questo tema, giustizia, a caso i bicini, nessun furbetto, tutti archiviati, ipotesi truffa, erano 27 di indagati, l'inchiesta partita dopo un servizio di striscia la notizia. Il GIP resta, dice, non si può escludere che le assenze siano state poi recuperate in altri giorni, quindi i dipendenti andavano perché avevano delle ore in più da recuperare, oppure semplicemente era il programma di lavoro, è Cristina Degli Esposti che firma quest'articolo sulla pagina del resto del Carlino di Bologna. Ma andiamo adesso rapidamente anche sulle prime pagine dei quotidiani nazionali, comincerei subito da avvenire, comunque in Europa, Conte Premier incaricato, sarò avvocato del popolo, cercherò alleati per difendere gli interessi nazionali, intervento determinante del Presidente sulla nostra collocazione, il no a Savona, Di Maio e Salvini, il Primo Ministro, sarà indipendente. Mattarella sarò al suo fianco, attenti ai conti, primo colloquio, l'Assemblea Confindustria non si fida senza le coperture, il contratto proposto. Consentito ai minori tanti divieti aggirati, sul fumo, alcol, azzardo e internet, i limiti sono stati tutti superati e poi controlli in azienda e diritto all'oblio, la nuova privacy disegnata dall'Unione Europea, il garante, manca però ancora il decreto. E poi Giovanni XXIII ritorna tra noi, Bergamo in festa, sempre da questa prima pagina del quotidiano avvenire, poi ancora a Nicaragua minaccia i vescovi del dialogo, morti nelle proteste, questo è ancora il tema lanciato da avvenire. Pronto il resto del Carlino QN, avvocato del popolo, Premier incarico a Conte, difenderò gli italiani, battaglia su Savona alla economia. E poi Confindustria stronca il contratto di governo, Lira di Lega e Cinque Stelle, Boccia chiede crescita e lavoro, poi la strage, Mambro sciocca, Bologna mi considero una deportata, Piemonte, treno, urta, tir, un morto e decine di feriti. E poi addio a Rosi, gigante del romanzo, americano, un genio senza Nobel. E poi ancora saputo, qui si parla di sport e di calcio sulla prima pagina nazionale del QN, saputo accedere sul nuovo stadio e prepara l'addio a Donadoni. Prima pagina anche per Repubblica Nazionale, eccoci qua, Conte, Premier, sia l'Europa, la Lega sfida il collo su Savona. Mattarella chiede garanzie, Salvini insiste sul ministro anti-euro, subito la flat tax e l'abolizione della Fornero. E poi ancora, sempre da questa prima pagina, un discorso a due facce, ci sono un po' di commenti affidati agli editorialisti di Repubblica Nazionale. Voglio portarvi anche sulla prima pagina del Corriere della Sera, eccolo qua, in carico a Conte, i paletti del Colle, l'Italia resterà in Europa, sarò l'avvocato del popolo, il Quirinale si preoccupi della stabilità del paese. Tra i ministri, Nodo Savona l'economia, Giorgetti sarà lui, Forza Italia all'opposizione, sale lo spread all'arme di Confindustria. Il perfetto sconosciuto entra a Palazzo Chigi, le origini e la carriera. È bello come tante volte non vogliamo, al di là del caso di Conte, però tante volte non vogliamo i soliti noti, perché quando arriva uno che è meno noto, invece anche questo un po' ci spaventa. Ma fa parte delle nostre caratteristiche tipicamente italiane. Viva l'Italia! E poi ancora, non è un giudizio né positivo né negativo su Conte, è assolutamente un'osservazione generica, potrebbe essere Conte, Conticini o altre persone. Lo scrittore che ha scavato nel buio dei nostri cuori, stiamo parlando della morte di Philip Rose, e poi ancora, sempre dalla prima pagina, quella della sera, arriva la stampa, Conte, sono l'avvocato del popolo, la scelta di Mattarella dopo due ore di colloquio, industriali perplessi, Savona resiste, spunta Zingales, superato lo scoglio del curriculum col pressing di Salvini e Di Maio, il designato rispetteremo l'Europa, Bruxelles in vista a correzione da 10 miliardi di euro, ancora aperto lo scontro sul nome del ministro dell'economia, questa è ancora la pagina del quotidiano. Voglio portarvi sulla prima pagina del giornale, eccolo qua, Mattarella si arrende, questo è il titolo scelto dal quotidiano, Mattarella si arrende, prima le minacce grillini al Quirinale, poi arriva l'incarico a Giuseppe Conte, che giura sull'Europa e sulle banche, Silvio, silenzio di Berlusconi, alleanza a rischio, e poi oltraggio di Fico allo Stato e a Falcone, mani in tasca durante l'inno di Mameli, e poi ancora Cene e Piani Segreti, inizia l'era del Prof, è Augusto Minzolini che firma questo editoriale, chi trama dietro di lui, e poi quei moralizzatori a targhe alterne, e poi Ira di Confindustria all'opposizione, questo è ancora il tema lanciato dal quotidiano. Ma noi torniamo subito sulle pagine dei quotidiani di Bologna, spazio anche al QS Sport, Donadoni addio, non ha dubbi il quotidiano, saputo ha deciso, il Bologna cambia tecnico e accelera sul restyling dello stadio. E poi ancora Ancelotti al Napoli è fatta, ieri ha firmato, Spalletti rinnova invece con l'Inter, si parla anche di Serie A2, Fortitudo il Pozza, Plaude Capitan Mancinelli, e poi andremo a sentire il coach Pozzecco ai nostri microfoni, ieri lunga conferenza stampa che vi abbiamo trasmesso integralmente, poi Virtus il giorno di Dalla Salda, Paiola Operato, qui parliamo invece del basket di Serie A, e poi Big del Mondo da oggi al Via di Piazza di Siena, equitazione scatta il CSI più atteso degli ultimi anni. Allora torniamo sulle pagine anche del resto del carino di Bologna, prima però voglio parlare del Grand Tour 2018, un momento, una presentazione a ieri che vede ancora una volta la valorizzazione del nostro territorio, Confcommercio insieme a De Milbanca in questo progetto, andiamo a sentire allora il direttore generale di Milbanca, Daniele Ravaglia, intervistato dalla nostra Eleonora Monari, Noi siamo convinti che la nostra montagna, la nostra pianura abbia delle realtà ambientali, turistiche, quindi economiche, culturali straordinarie, devono essere conosciute di più. Noi siamo una banca locale, come continuiamo a dire, abbiamo le radici in queste zone, in particolare in Appennino, e quindi cerchiamo di valorizzare quello che di bello, di interessante c'è, facendolo conoscere più persone di quanto oggi non lo conoscono. In queste iniziative abbiamo coinvolto molte, molte altre istituzioni, enti, associazioni, persone, attività economiche e commerciali, ovviamente con l'aiuto di Ascom, con l'aiuto della città metropolitana, con l'aiuto di Bologna Welcome, quindi abbiamo cercato di creare una rete che miri a valorizzare ancora di più quello che i singoli operatori potrebbero fare, con un obiettivo cercare di mantenere un po' di ricchezza anche in queste aree, evitandone quindi un'ulteriore possibilità di riduzione di lavoro. Se ci sono i residenti, queste zone vengono mantenute pulite, vengono mantenute salubri, c'è la possibilità di fare delle passeggiate, delle visite, vedendo cose bellissime, e questo credo che sia un valore condiviso, un valore di tutti, non soltanto di chi risiede lì, ma di quelli che possono godere di queste bellezze. E ricordo che sempre in tutte queste iniziative il nostro camper continua nei suoi movimenti, a girare, a partecipare, ad essere invitato, adesso partono tutte le notti bianche, gli appuntamenti nelle piazze, nelle città, in pianura, in appennino e nella città stessa. Ricordo che sabato saremo alla Notte Bianca di Altedo, a partire dalle 18, saremo lì con il nostro camper, le nostre dirette televisive, insomma, tanti momenti importanti, continuate a seguire veramente i viaggi del camper di Nettuno TV. Siamo sulle pagine interne del resto del canale di Bologna, in apertura vi ricordavo l'appuntamento oggi con la presentazione del libro di Andrea Riccardi, fondatore della comunità di Sant'Egidio, oggi nella Cappella Farnese a Bologna, una presentazione importante, in grande stile, perché oltre alla presenza dell'Arcivescovo di Bologna, Mons. Matteo Zuppi, ci sarà anche Romano Prodi, Stefano Zamagni e Ivano Dionigi, Sant'Egidio, storie di accoglienza umanitaria, questo è il titolo scelto dall'articolo, firmato da Massimo Selleri, oggi la presentazione del libro, l'eremo di Lonzano ospiterà profughi eritrei. La nascita, la comunità di Sant'Egidio nasce a Roma nel 1968 per iniziativa di Andrea Riccardi, con attività a favore degli emarginati, lo spirito, tre famiglie eritrei sfuggiti alla guerra civile, saranno ospitate all'eremo di Lonzano, grazie al cordone umanitario che è stato creato proprio dalla comunità di Sant'Egidio. E quindi oggi pomeriggio, ripeto, alle 18 in Cappella Farnese, chi non riuscisse a raggiungere Cappella Farnese, vi ricordo, la diretta televisiva su Nettuno TV, a partire proprio dalle 18. E poi ancora, sempre dalle pagine dei quotidiani del resto del Carlino di Bologna, ecco qua, nomadi all'assalto dei turisti, inchieste blitz non fermano l'accattonaggio in stazione, il BLQ è l'autobus che collega la stazione con l'aeroporto, ogni corsa costa 6 euro, la trappola si appostano alle casse dei biglietti BLQ per farsi dare soldi dai viaggiatori, ma insomma, come l'ha visto il fotografo del resto del Carlino, penso che sia visibile anche alle forze dell'ordine o alla Polizia Municipale, insomma, chi spetta deve intervenire. Ed ecco il tema invece della raccolta porta a porta, diciamo, siamo tutti ben consapevoli di quello che succede in città a Bologna, nella raccolta porta a porta, ma anche nei comuni limitrofi, dove vediamo in certe giornate le buste verdi, le buste azzurre, rosse, quello che vi pare, in certe fasce orarie la gente deve lasciare tutto fuori dal portone, per cui a un certo punto le vie di Bologna sembrano sostanzialmente una grande discarica. È un po' che effettivamente il fenomeno è sotto gli occhi dei bolognesi, e adesso l'assessore Aitini, neo-assessore insediato, dice, ma sì, forse si può cambiare, quindi rifiuti di cambiare porta a porta, Aitini dice un effetto di scarica nelle strade del centro. È bello vedere come effettivamente, anche solo andando e girando, vivendo la città, uno poi si renda conto che certe cose vanno affrontate e ci fa piacere che questa sia la decisione. Prima pagina è pagina del Corriere di Bologna, Strage Mambro riapre le ferite, e l'ex NAR ribadisce la sua innocenza in tribunale e qui mi sento una deportata. Mambro show titola il Corriere di Bologna davanti ai parenti delle vittime, nulla di cui vergognarmi, qui da deportata. In NAR è la strage del 2 agosto, l'ex terrorista depone in aula sulla storia nera del gruppo armato, gli omicidi e l'escalation criminale. E poi ancora il ragazzino miracolato, ma quale umanità, non riesco a sentirla. E poi l'ex ferroviere ferito, per lei provo solo rabbia, la verità mai da loro, le emozioni e le lacrime, il dolore dei familiari, ieri in aula durante l'udienza. Mini Daspo per Piazza Verdi, ancora dalle pagine del Corriere di Bologna, il prefetto firma l'ordinanza contro i pusher della zona universitaria, salta quella di Merola, invece per bonghi e alcol, ai tini le regole ci sono. Poi ancora c'è un appello e l'ironia di Morandi, fate suonare lo stato sociale, fra i giovani sono più noti di me, questo è ancora il tema lanciato dal quotidiano, il Corriere di Bologna, e poi i taxi, ecco i paletti dell'autority, presto serviranno altre licenze, l'organismo di vigilanza, 36 nuove auto, sono solo un punto di partenza. E poi pressing di E su E, Raitini, troppi sacchi di rifiuti in strada, cambiamo la raccolta, quindi vedete che basta stare un po' tra la gente, girare, rendersi conto, e alla fine i problemi emergono, li sottolineiamo noi, girando quotidianamente con i nostri giornalisti, operatori, con il nostro camper, in tutto il territorio, in tutta la città metropolitana, facendomi vedere un po' quello che succede, e poi basta girare, anche il mondo politico può trovare, diciamo, grandi soddisfazioni, soprattutto di contribuire a migliorare la città. Troppi rifiuti sotto i portici, il Comune tratta con ERA, l'assessore Aitini, la raccolta non va, occorre cambiare, siamo pure sotto gli obiettivi che ci chiede la Regione, e quindi diciamo, c'è qualcosa effettivamente nel piano che non funziona, ma è lo stesso piano, come dire, che è stato poi approvato e portato avanti dalla stessa Giunta. Andiamo adesso a occuparci invece di, come dire, di sistema di costruzione, di quella che è il miglior modo di utilizzare il nostro territorio, non solo nella promozione turistica, ma proprio anche nell'ambito del tema del mondo delle costruzioni. Ieri un importante convegno sulla legge regionale promosso dall'Istituto, dalle Iple, allora ieri abbiamo intervistato il Presidente Mauro Vignoli, lo ha fatto per voi Francesca Bolognini. Abbiamo una grande fortuna, una grande opportunità di ricostruire l'edilizia. L'edilizia ha perso 600 mila posti di lavoro con la crisi. Questa legge ci permette di entrare nel merito della rigenerazione urbana. Rigenerazione urbana vuol dire che su 30 milioni di fabbricati che abbiamo in Italia, tantissimi sono prima degli anni 60 e 70 e sono tutti da rigenerare. Di conseguenza questa opportunità non ce la dobbiamo fare scappare, soprattutto con i grandi benefici fiscali che abbiamo, che raggiungono l'85% di detrazione. Si parla di rigenerazione anche per quanto riguarda l'antisismicità di magari tanti edifici. Puntate anche su questo. Sì, questa legge insieme all'analigia nazionale ci permette di fare queste grandi detrazioni che dicevo, che sono sismiche e non. Quindi si può raggiungere in dieci anni la detrazione dell'85% e questa legge regionale, ben fatta sotto questo punto di vista, permette anche di avere dei bonus. Quindi tutti i fabbricati che entreranno in questo scenario avranno delle opportunità enormi di risparmio e soprattutto di renderli antisismici e in classe A o A più, più, più. Quindi c'è quasi l'infinito nella tecnologia oggi. Oggi non ci sono più nelle campagne i contadini, in edilizia non ci sono più i moratori, ma ci sono i professionisti dell'edilizia e noi come Iple prepariamo. Torniamo sulle pagine del resto del Callino di Bologna, albicocche marce a merenda, le date degli alimentari Casaralta non le hanno distribuite ai bambini, la COP dice dispiaciuti, può essere saltato qualche controllo, faremo una verifica, le famiglie ovviamente c'è un po' di rabbia sconcerto fra i genitori, ma sono preoccupate anche un po' per l'accaduto. Comunque qualcuno, questa albicocca, c'è anche una fotografia molto eloquente sulla prima pagina del quotidiano, l'avrà messa qui dentro, probabilmente non penso si sia deteriorata così, anche perché deve essere roba fresca per i nostri bambini, i nostri figli, insomma effettivamente la situazione è un po' curiosa e bisogna andare ovviamente a fondo. Il deputato Cariazzo Bignami chiederà al Ministro di avviare una verifica, qualcuno dovrà rispondere di questo grave fatto, Movimento 5 Stelle a Palazzo D'Accursio Elena Foresti, consigliera comunale Grillina chiederà spiegazioni all'assessore di riferimento, le scuole elementari Casaralta e Croce Coperta aderiscono al progetto ministeriale frutta e verdura nelle scuole, però se la frutta che arriva è questa è chiaro che meglio sospendere diciamo così la sperimentazione. Andiamo sulle pagine del Corriere di Bologna, le pagine interne, ferie solidali per i colleghi in difficoltà, in GD se ne discute, su metà giugno, Fionfim e Wilm chiedono all'azienda un confronto anche sulla banca del tempo. Ma restiamo sempre su queste pagine del Corriere di Bologna, vi porto ecco qui, troppi candidati, slitta a settembre il concorso per i nidi, questo è il tema, il 4 giugno era previsto il concorso per sette posti di educatore di nido nel comune di Bologna, ha finalizzato anche a riformulare le graduatorie, l'altro giorno il comune ha annunciato di aver ricevuto 1700 richieste da tutta Italia di non poter più svolgere la prova per gli educatori il 4 giugno la faranno solo i collaboratori scolastici e gli educatori la faranno il 4 di settembre. E poi ancora IBC ci fu assenteismo il Gigi parchivi e ogni accusa quindi non ci fu assenteismo questo diciamo è quanto è emerso dall'udienza dall'indagine da parte della magistratura. Il Bologna esonera Donadoni titolo per il Corriere di Bologna la giornata in mattinata Fenucci e Bigon comunicano al tecnico la decisione di voltare pagina quindi come in Matteo saputo resta in conclave con dirigenti architetti per il Dallara sera la grigliata di fine anno ecco la grigliata di fine anno per quanto riguarda il Bologna a Casteldebole Guidolin vuole più garanzie il club sceglie la linea giovane il favorito resta Pippo Inzaghi a questo punto che come detto arriverebbe dal Venezia Venezia che è nelle mani di Gio Tacopina quindi insomma è simpatico saputo Mero l'altro summit per lo stadio l'ora delle scelte oggi riunioni tra il Cermen e Maccaferri il Bologna lavora per non emigrare questo è ancora il tema lanciato dal Corriere di Bologna ma noi restiamo a parlare di scuola perché al di là del caso della frutta c'è un tema che è quello dell'impegno di alcuni genitori per sostenere le scuole in questo caso stiamo parlando di note elementari iniziativa nata alcuni anni fa che vede tanti protagonisti in primi i genitori oltre che la stessa scuola stiamo parlando della scuola Pavese andiamo a sentire uno dei partecipanti a questa iniziativa di venerdì per quanto riguarda anche un momento per raccogliere fondi per sviluppare i progetti legati alla musica Eugenio Finardi sarà l'ospite d'onore ma noi abbiamo intervistato Paolo Fresu un notissimo gezzista andiamo a sentire note elementari è un progetto che si ingloba in nidi di notte che è il nostro primo progetto quando da genitori musicisti scoprimo portando il nostro bambino nei nidi e poi nella scuola dell'infanzia che la musica forse non era troppo presente poi ovviamente è andato nella scuola primaria e abbiamo deciso di far diventare questo progetto anche note elementare sono il quarto anno il 25 maggio le scuole pavese i cortili bellissimi delle scuole pavese si aprono alla comunità e questo è già un fatto di per sé molto importante per un evento concerto che coinvolge i bambini i bambini che poi hanno frequentato i laboratori musicali che abbiamo finanziato con note elementari dello scorso anno dove c'è un ospite speciale che è Eugenio Finardi e dove c'è prima un gruppo che è composto da genitori musicisti tra i quali sottoscritto Federico Poggi Pollini Silvia Testoni e diversi altri che creano una sorta di spettacolo sul tema della diversità mutuata proprio da alcuni dei brani di Finardi Amore diverso da una parte extraterrestre e abbiamo pensato che si potesse raccontare la diversità oggi attraverso una fiaba in musica bellissima che poi è quella del brutto natrocolo l'idea è quella però sostanzialmente di approfittare della presenza del pubblico per poter finanziare i laboratori musicali del prossimo anno e dare a tutti i bambini l'opportunità di frequentarli a titolo gratuito e dare l'opportunità anche a molti degli insegnanti di poter approfondire quello che è la didattica dell'insegnamento della musica quindi diciamo che è una giornata che si porta presso molti significati diversi tra cui quello di continuare a riflettere sull'importanza della musica e dei linguaggi creativi nella scuola credo che ci sia sempre bisogno di farlo torniamo sulle pagine del resto del carino andiamo nell'ambito della città metropolitana Valsamoggia botte e insulti erano come delle furie incubo baby gang Valsamoggia parla Teresa la 24enne vittima del gruppo uno l'ho riconosciuto e poi andiamo a Crespellano la gara solidale tra 12 squadre al via la decima edizione del torneo Giacobbe sempre da questa pagina del Corriere e poi ancora sempre dalle pagine interne andiamo invece verso la pianura andiamo a Bentivoglio interporto operai denunciati per furto i carabinieri hanno sequestrato refurtiva per un valore di 20 mila euro questo è ancora il tema che viene raccontato nell'articolo di Matteo Radogna nelle pagine della provincia e poi ancora cibi bimbi cibo escursioni e foto il Grand Tour in Appennino l'abbiamo parlato prima il 16-17 giugno coinvolti ben 6 comuni abbiamo scritto le parole di Ravaglia proprio su questo tema con Emil Banca in prima linea voglio riportarvi sulle pagine invece dello sport in attesa appunto di capire oggi che cosa succederà Donadoni addio con la foto di Saputo vedremo e poi ancora andiamo a leggere ecco qui cosa dice il Bologna volta pagine saluta Donadoni il patrono ha deciso resta da definire solo l'accordo sulla buon'uscita al tecnico che ha un altro anno di contratto arriverà un nuovo mister e poi ancora nuovo dall'Ara si parte saputo dai la via libera intesa col gruppo Ece per la città della moda i progettisti ieri a Casteldebole quasi pronta la lettera di intenti da presentare all'amministrazione comunale lavori a blocchi per continuare a giocare nello storico impianto dal calcio andiamo invece al basket eccoci qua Mancio il Mancio è imbronciato ma fa volare la fortitudo la squadra ha capito che ora sono il coach e poi Boniccioli Junior in campo con il CUS basket universitario il retroscene del capitano mi tiene il muso perché non ha riposato in albergo prima di gara 4 l'importante è che sia sempre il migliore ma ieri dicevamo un pozzecco veramente in piena ha ha tenuto un'ora di conferenza stampa circa un'ora 50 minuti che noi tra l'altro vi abbiamo trasmesso integralmente andiamo adesso a risentire un passaggio proprio di lui pozzecco davanti ai nostri giornalisti Giacomo Bianchi e Francesca Bolognini soffro sì non vi preoccupate gli unici che si devono preoccupare della mia sofferenza sono il mio staff e il mio staff è clamoroso sono molto contento della 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 visibilità della della gratificazione che state dando a Stefano se lo merita totalmente aggiungo Roberto Lopez perché quando io vengo spedito a casa lui diventa lui diventa il vice allenatore ed è eccellente come persona e come allenatore e poi il terzo diventa Tasini che è un altro ragazzo che avrà secondo me un grande futuro e questa è una cosa che io sottolineo perché perché mi piace condividere le cose belle e questa è una cosa bella e poi anche perché è un po' un po' il mio sogno forse io sono molto tradizionalista per certe cose per certe altre ho un po' la mia visione delle cose e rispetto a questa situazione qua mi piacerebbe costruire il mio sogno è quello di costruire uno staff che abbia che abbia competenza ma anche enorme responsabilità cosa che in America succede già però ripeto non vorrei sembrare un po' troppo ottimista perché secondo me quello che abbiamo fatto fino adesso è adesso faccio il ritorno nei panni del allenatore quello paraculo però è un po' la verità abbiamo fatto quello che dovevamo fare perché siamo nelle prime quattro sono le quattro squadre più forti però è anche vero che l'appetito viene mangiando è un'altra responsabilità che abbiamo e far vivere il sogno non solo noi ma anche al nostro popolo allora queste le parole anche di Gianmarco Pozzecco arrivato il momento di fare il nostro break pubblicitario ci fermiamo c'è la pubblicità torna poco torneremo insieme qui canale 99 due volte 9 sul vostro telecomando Nettuno TV Nettuno TV.tv per chi ci vuole seguire anche in streaming e adesso ci fermiamo come detto c'è la pubblicità state con noi che c'è la pubblicità